Sono sei crociati a cavallo che hanno aperto ufficialmente venerdì sera a Cappelle sul Tavo la rievocazione del fagiolo tondino che per voi è diventata oramai una vera e propria tradizione, una cultura che cercate di coltivarvi in tutti i sensi. Sì, questa di quest'anno è la seconda edizione di Rivive il Tondino del Tavo, un progetto ambizioso che vuole portare all'attenzione di tutta la vallata del Tavo questo prodotto che di fatto non si produce a Cappelle ma si produce da farindola interessando tutti i comuni della vallata del Tavo. Infatti proprio per questo ieri abbiamo avuto una tavola rotonda, abbiamo incontrato gli amministratori di alcuni comuni che insieme a noi hanno condiviso questo progetto e abbiamo preso l'impegno di portarlo avanti. Ricordiamo il fagiolo tondino, un fagiolo assolutamente particolare, biologico in tutti i sensi. Infatti ci siamo affidati quest'anno ad una nota azienda qui del posto, l'azienda di Tullio che per noi ne ha prodotto un appezzamento importante questo anche per non svilire la qualità del prodotto stesso. Avete scelto i crociati non a caso questa sera? Non a caso è stata una ricerca a cura del nostro assessore Angelo Anselmi che ha riportato l'attenzione di questo prodotto addirittura all'epoca dei crociati quando con l'attraversamento della vallata del Tavo questo prodotto si insediò proprio qui grazie ai crociati. Il tondino è un prodotto tipico che si inserisce in un contesto, in un bouquet di prodotti tipici locali. In un paniere di prodotti tipici, infatti questo vuole essere l'inizio di un'attività alla riscoperta di alcuni prodotti tipici della zona.